Ciao a tutti, sono Rosa Lattanzio, sono la responsabile dello stile di Amadin, quest'anno presente qui in Fiera, a Fortezza D'Abbasso, per Immagini Italia, e sono molto contenta del risultato che stiamo ottenendo, della visibilità e soprattutto dell'attenzione del nostro pubblico. In particolare stiamo ricevendo molte attenzioni sulla nostra nuova linea urban. È un concetto, come si può notare dal mood board, di mix and match, quindi un'idea nuova di interpretare i capi con quello che noi proponiamo, ma con quello che uno può avere a casa, quindi di creare proprio dei mix e di creare e dare una nuova anima ai propri capi. Questo all'insegna del nuovo modo di interpretare l'abbigliamento. Oltre a questo noi abbiamo ormai una lunga storia alle spalle di oltre 60 anni di un prodotto di lingerie e pigiameria. La nostra è un'azienda made in Italy da sempre, in particolare made in Puglia, un'azienda familiare di cui sono lieta e orgogliosa di rappresentare. Grazie e arrivederci alla prossima.